Oggi parleremo ancora di transistor bipolari vedendo però come simularli quindi abbiamo fatto dei calcoli nei video precedenti per arrivare a definire un semplice amplificatore ad emettitore comune vediamo come vedere e analizzare il funzionamento tramite alcuni simulatori online iniziamo subito nell'esercizio che abbiamo svolto l'ultima volta abbiamo fatto dei calcoli per un amplificatore con transistor a emettitore comune in transistor tipo npn qui andavamo a calcolare le varie resistenze il transistor aveva un beta di un centinaio mi pare 120 unità ingresso uscita andiamo a mettere due condensatori elettrolitici attenzione alla polarità oppure potete utilizzare dei condensatori elettrolitici non polarizzati che si trovano anche di questo tipo potete mettere uno da un 10 micro quindi questo è quello che abbiamo costruito che vediamo come possiamo intanto simulare questo circuito per capire come funziona esistono varie soluzioni oltre a tinker che già conoscete per esempio c'è questo sito che si chiama falstad che presenta già una serie di soluzioni già pronte anche se in effetti è un applet che può funzionare da simulatore di circuiti quindi potete entrare e modificare i valori di una serie di configurazioni per esempio l'amplificatore che abbiamo appena visto modificando il valore andiamo a mettere l'alimentazione da 12 volt andiamo a modificare il valore delle resistenze semplicemente cliccandoci sopra quindi mettiamo da 100k quella qua sotto l'avevamo messa da 12 quindi doppio clic modifichiamo il valore poi abbiamo questi due che sono una da 10 e una da 1k perfetto il carico noi l'avevamo ipotizzato da 47k quindi faccio 47k e do ok abbiamo poi due condensatori li lasciamo da 5 microfarad va benissimo il segnale di ingresso avevamo ipotizzato un segnale 500 millivolt va più che bene quindi è mezzo volt diamo ok possiamo far partire la simulazione e vedere cosa succede quindi vediamo qui il segnale di ingresso da 500 millivolt e poi quello in uscita che in teoria dovrebbe essere amplificato qui non si vede molto perché le scale sono diverse possiamo far apparire la scala in modo da capire effettivamente come si stia comportando di fatti hanno uno la scala da 500 millivolt per divisione quindi per ogni quadratino si vede molto poco mentre quello di uscita è 5 volt per divisione abbiamo calcolato un guadagno di circa 10 in effetti vediamo che la forma d'onda in uscita è amplificata una decina di volte possiamo poi eventualmente qui andare a modificare i valori al volo oppure fermare la simulazione e andare per esempio a inserire un nuovo componente tasto destro faccio add passive component capacitor aggiungiamo un condensatore clicco e tiro per aggiungere i fili faccio tasto destro in uno spazio vuoto faccio add wire o la lettera W quindi vado a prendere una delle estremità per esempio quella di questa resistenza e brutalmente andiamo a collegargli il condensatore facciamo così anche da questa parte quindi clicco sulla estremità del condensatore e lo tiro e vado poi a congiungerlo all'emettitore che scusate il disegno è molto brutto ma mi serviva per andare a posizionare un condensatore in parallelo alla resistenza sull'emettitore facendo partire la simulazione voi sapete che aggiungendo questo condensatore il guadagno dovrebbe aumentare di una decina di volte difatti vedete che l'amplificatore sta come si dice clippando quindi va a tosare la forma d'onda di uscita che questa viene amplificata molto di più del guadagno calcolato quindi abbiamo impostato un 10 noi sappiamo che empiricamente aggiunge un per 10 quindi dovrebbe essere 100 per questo va a clippare ok quindi è molto carino questo sistema di simulazione perché potete fare delle prove in modo rapido se tornate sull'indice che trovate appunto sul sito falstad.com avete tutta una serie di circuiti già pronti che potete andare a impostare oppure partire addirittura da uno schema vuoto su internet ci sono varie soluzioni online che sono concentrato solo su questo tipo di soft un altro che ho trovato è circuit lab qui potete anche registrarvi ma se non pagate avete ben poche funzioni il vantaggio di registrarsi come utente pagante è quello di poter salvare gli schemi da utente gratuito non pagante potete solo simulare al volo e poi perdete le informazioni e facciamo nuovo avete qua di fianco tutti i vostri componenti quindi andiamo a prendere un volt source per andare a impostare poi la tensione di alimentazione del nostro transistor mettiamo 12 volt e costruiamo poi il circuito ci servono quindi quattro resistenze che mettiamo all'ingresso e poi all'uscita andiamo a cercare un transistor mettiamo il nostro npn realizziamo il circuito come abbiamo visto le connessioni si possono o tracciare a mano oppure accostando i componenti il programma capisce che vogliamo collegarli quindi li collega quindi qua colleghiamo le due resistenze tiriamo un filo dalla base clicchiamo sulla pallina la tiriamo fino a qui colleghiamo insieme le resistenze qua sopra quella nella parte inferiore modifichiamo i valori abbiamo messo 100 kg quella sotto sono 12 kg e quelle in uscita abbiamo la resistenza di collettore da 10k e quella di emettitore da 1k il transistor va bene il 2L3904 che dovrebbe avere un beta di circa un centinaio di unità andiamo a collegare il nostro alimentatore da 12V al nostro circuito potremmo anche lanciare simulazione così ma vogliamo fare una simulazione diciamo dinamica applicando un segnale abbiamo un generatore di funzione sinusoidale lo mettiamo qui colleghiamo dalla parte al ground ci serve un condensatore circuito è un po' piccolo quindi lo allarghiamo altrimenti non ci stiamo possiamo anche ruotare il componente con tasto destro Rotate andiamo a collegarlo vediamo se si è collegato sì ora colleghiamolo alla sorgente d'ingresso doppio clic ampiezza da un watt e tanto facciamo 0.5 come abbiamo visto l'altra volta lasciamo pure un KHz possiamo aumentare la capacità del condensatore a 10 micro aggiungiamo il secondo condensatore in uscita premo R per ruotarlo doppio clic cambiamo il valore 10 micro anche lui lo collego qua sul collettore e possiamo collegargli la resistenza di carico sull'uscita doppio clic mettiamo da 47 KHz colleghiamo il tutto e colleghiamolo poi a ground bene questo è il nostro circuito per andare a misurare l'uscita serve mettere uno di questi nodi facciamo doppio clic mettiamo out mettiamone un altro all'ingresso proprio sul generatore faccio in in modo da avere un riferimento di ingresso e uscita aggiungiamo un ground ora il circuito dovrebbe essere pronto lanciamo la time domain simulation per aggiungere i punti da controllare clicchiamo su add expression avviciniamoci con questa pennetta vedete che il cursore prende la forma di una penna clicchiamo su in facciamo add expression clicchiamo su out qui mi ha preso due in uno lo possiamo cancellare ok uno in più mettiamo start time 0 stop time 10 millisecondi time step 10 microsecondi ora possiamo far partire la simulazione viene fatto il calcolo e poi ci presenta il grafico vedete quello in azzurro è l'ingresso mentre quell'altro è il valore in uscita la cosa interessante di questo simulatore è che possiamo esportare l'immagine eventualmente salvarla il video di oggi si conclude qui spero che questi strumenti che vi ho presentato rapidamente vi possano servire anche per altri esperimenti per altre prove tenetele presente salvatele nei bookmark perché sono veramente utili bene vi ringrazio vi saluto ci vediamo domani ciao